Ciao a tutti amici, qui c'è l'India Zulu 1 Foxtrot India Delta che parliamo con voi. Questo è il mio callings Romeo 389, numero 148. Ho comprato questo ricevere molti anni fa, da Don Rivas, Whisky 5 Oscar Romeo, poi l'avevo riempito da Rick Misch, di Miltronics, che finalmente lo sentono a me in Italia. È un ricevere riempito, credo che circa 1.000 hanno stato riempito. E come la particolarità del motore del motore. Questo è necessario, perché un turno del motore corrisponde solo a 20.5 kHz, in un turno del motore del motore. In un turno del motore corrisponde solo a 5 kHz, in un turno del motore. Ora possiamo provare, dal stand-by, per operare. in un turno del motore corrisponde solo a 1.000 kHz, in un turno del motore corrisponde solo a 5 kHz, in un turno del motore corrisponde solo a 5 kHz. In un turno del motore corrisponde, E come la raccogla, e come la raccogla, e come la raccogla in intenzione, in un turno del motore corrisponde, e come la raccogla, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.